Brava Sara! Datti da fare, eh! Che ce ne vogliono tante di queste orchidee Unicef! Tu dici che ce la facciamo per il 30 aprile e il primo maggio? Sì che ce la facciamo, nonnolino! E ce la dobbiamo fare sì! Sapete, al mondo ci sono milioni di bambini costretti a lavorare, comprati, venduti. Noi li dobbiamo proteggere. È ora di piantarla! Scegliete la vostra orchidea Unicef e ci aiuterete a salvare tutti questi bambini in pericolo. Giusto? Giusto!